Sì, è uno strumento core molto importante perché ci segnala live la temperatura del corpo degli atleti. I direttori sportivi possiamo analizzarlo poi sui software come TrainingPix, visualizziamo la temperatura durante tutta la tappa, e perché sia in condizioni estreme di caldo o di molto freddo, l'atleta può adattare dei sistemi di tutela dell'aumento di temperatura o abbassamento del proprio corpo.